Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, in Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ed eccoci quotidianamente qui impegnati con Sportello Reclami con un nuovo argomento che poi in realtà tanto nuovo non è a dir la verità perché siamo tornati ancora in Via Provenza dove la situazione non è migliorata, anzi vediamola insieme. Ciao a tutti amici e amiche e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sportello Reclami, un saluto da parte di Massimo Gianni, in zona Saione ci siamo stati svariate volte, oggi torniamo in Via Provenza dove il degrado sembra essere aumentato, vediamo. Buonasera, siamo di nuovo nella zona di Via Provenza, le segnalazioni continuano ad arrivare, è circa 6-7 mesi che ci siamo venuti, la situazione qui sta veramente degenerando, dopo la segnalazione che era stata fatta per il continuo ritrovamento di siringhe e le continui rigidi rieloschi che c'erano la sera erano state messe delle transenne, transenne che sono state tolte, sono qui alle nostre spalle e il pezzo di terra praticamente oggetto dei problemi è di libero accesso a tutti, libero accesso a tutti quindi significa che in terra ci sono siringhe sparse ovunque ma non basta perché ultimamente addirittura c'è stato messo un letto, un letto che serve a una persona che ci dorme perché sono già diversi giorni che veniamo nella zona per vedere la situazione e il problema è che qui in perterriti continuano a buttare siringhe, continuano ad esserci giri di droga, di spaccio, ci dove mandiamo una cosa ma per tenere sotto controllo questa situazione, ma due pattuglia sorpresa ogni tanto per verificare quello che succede oppure lanciamo un'altra idea, chiudere direttamente questo spicchio di terra che è una vergogna per la zona di Saione, è veramente un'indecenza, cioè che nessuno venga a vedere, siamo sempre noi che si viene a vedere, tutti non vedono, hanno tutti gli occhi chiusi, eppure questo muro che abbiamo a lato è il muro della manutenzione, quindi ci lavora personale del comune e non penso che nessuno abbia mai parcheggiato la macchina qua dietro. E già, una sbirciatina dietro il muro per vedere cosa succede, no eh? Cioè non riuscire a vedere quello che succede e a due passi c'è un asilo, cioè veramente è una cosa vergognosa, siamo veramente indignati. In effetti è un diverso tempo che c'è questo vagone e sicuramente c'è personale che lavora e il fatto è che poi anche le siringhe vengono buttate oltre la recinzione della ferrovia, la straccionata della ferrovia, quindi praticamente di là vedono quello che c'è, ma qui nessuno fa niente, cioè il problema continua ad andare avanti e c'è anche questo il fatto che questa non è l'unica zona di Saione in queste condizioni. Saione è nel degrado totale perché se ci spostiamo di poco troveremo altre situazioni uguali. E c'è anche questo letto che testimonia il bivacco notturno in Via Provenza. Sì sì, un letto proprio messo in modo adeguato perché praticamente due mattoni sotto, la rete, il materasso, coperte, cartoni sopra, il guancialino, cioè addirittura ci sono magliettine, abbigliamento di qualcuno che si cambia, quindi è proprio documentato che qui ci dorme qualcuno. Ora siamo in un orario che ormai sicuramente la persona che ci dorme si sarà alzato, ma che nessuno durante la notte venga a controllare che qui c'è un letto, cioè praticamente è una camera a cielo aperto diciamo, c'è un letto e nessuno, noi sono 15 giorni che veniamo qui a vedere, che nessuno abbia fatto rimuovere quello che c'è qui dietro alle nostre spalle. E andrebbe pulito. Sì, andrebbe pulito e anche controllato perché come hanno testimoniato le nostre immagini, la notte c'è chi ci dorme. Ci vorrebbe un controllo più accurato, anche di notte, perché il giorno è logico, non è che si fanno vedere, signora, è la sera, che addirittura queste siringhe si trovano vicino a Cassonetti. Insomma, non è una cosa piacevole. Poi che vuole che le dica anche signora, noi a questo punto qui si stacano le mani in mano perché purtroppo è trascurata la zona, ecco come le posso dire. E la sera qui c'è chi ha paura ad uscire di casa. In effetti dopo una certa ora non è che si esce perché appunto non si sa, insomma la zona, come ripeto, molto trascurata e si rimane in casa la sera. Noi abbiamo quest'altra uscita anche di qui, oltre che al cancello automatico, anche di qui, però signora è così la situazione purtroppo. Ma è tanto tempo che è così la situazione, se che penso che lo dovrebbero sapere anche su al comune. Questi che dovrebbero pulire le strade, insomma sono loro che ci devono pensare. Da Via Provenza per il momento è tutto, linea allo studio. Si parla quindi di degrado, di abbandono, anche di situazioni preoccupanti. Una brandina addirittura dove qualcuno riposa, siringhe per terra. Via Provenza è ancora oggetto della seconda parte del nostro sportello reclami di oggi. Eccoci alla seconda parte, nella prima ci siamo occupati di Via Provenza, ce ne avevamo già stati, la situazione di degrado aumenta, adesso ci siamo leggermente spostati e siamo nel sottopasso di Via Arno, dove possiamo immaginarcelo, ma lo vedrete dalle immagini, non mancano le magagne. Sì, questa zona è mal frequentata sicuramente, come magari altre zone della città, non ne dubito, però questa sembra anche un po' trascurata. Questo sottopasso è piuttosto brutto già di suo, è trascurato anche, e c'è un dislivello addirittura, è stato così rattoppato un pochino, ma insomma non è stato fatto un lavoro piuttosto strutturato. Poi i giardini, insomma, a parte il taglio dell'erba, vengono ripuliti piuttosto di rado. Beh, lo avete visto dalle immagini, qui i problemi purtroppo non mancano. Poi, io avendo un cane, frequento anche i giardini, gli spazi dedicati ai cani. Anche lì la manutenzione, francamente, è piuttosto ranefatta. Ci sono dei buchi nella rete, i cani scappano fuori, l'individuo non scappano fuori. Poi c'è la convivenza con i bambini, che è sempre difficile, però nessuno provvede, nonostante che abbiamo segnalato anche come proprietari dei cani, come frequentatori di questi spazi, ma questi buchi sono rimasti. Ci spostiamo di poco per tirare le conclusioni, ma guardate cosa siamo riusciti a scoprire. Un'altra discarica, ma va! Ci siamo spostati dal sottopasso di via Arno, che le immagini rendono benissimo il degrado in cui versa, sono oltre tre anni che la secondizione è quella, c'è praticamente smottamenti da tutte le parti, ma la ciliegina della torta, per chiudere il tutto, nella zona di Saione, siamo all'entrata del parco Arno, dalla parte di via Mincio, cosa abbiamo trovato ai bidoni? Un cassettone, cioè immancabilmente ogni giorno la stessa situazione, rifiuti abbandonati ai bidoni. C'è una cosa veramente indecente, abbiamo fatto l'appello per centri di raccolta, invitiamo la gente anche con il nostro profilo Facebook a non abbandonare i rifiuti, anche se uno ieri sera, commentando i rifiuti lasciati ai bastioni qualche domenica mattina, mi ha detto, ma sono d'accordo con AISA, chiamano e gli dicono che lasciano direttamente ai bidoni. Non è questo il sistema. Il sistema è di portare a centri di raccolta e smettere di creare queste situazioni in centro città, cioè la zona di Saione veramente è abbandonata a se stessa. Doveroso diritto di replica all'assessore ai lavori pubblici, Franco Dringoli. Sì, questa è via Provenza, è una problematica che si ripete. Noi andiamo a pulire e poi dopo qualche tempo si ripresenta come al solito l'abbandono di rifiuti. Quindi a noi a questo punto abbiamo deciso di andare a fare l'ennesimo intervento di ripulitura, asportando anche chiaramente i carrelli che vengono lì abbandonati in quella zona, così come ovviamente anche la ripulitura dalle erbe, la ripulitura da questi letti improvvisati. La manutenzione non c'entra niente perché si passa da via Provenza, quindi non è un'area che è visibile dal comune, ma appunto è visibile ovviamente passando da via Provenza. Quello che sarà necessario è anche una transennatura solida, era già stata fatta ma è stata ovviamente rimossa, quindi una transennatura più solida per chiudere questo fondo cieco e evitare l'abbandono, lasciando però la zona a parcheggio perché alcuni cittadini servono ovviamente parcheggi in quella zona. Colgo l'occasione per rinnovare nuovamente il problema dell'abbandono di rifiuti, perché sia fuori da Cassonetti che ovviamente nelle varie aree che siano soprattutto pubbliche, e mi viene in mente anche sempre la zona di Pratacci. Questo comporta dei costi notevoli per l'amministrazione, che in un anno si quantificano in oltre 200 mila euro. E su questo dovremmo usare adesso una mano sempre più forte, abbiamo istituito anche gli ispettori ambientali. Chi verrà ovviamente intercettato o comunque si capirà chi ha fatto questi abbandoni dovrà essere pesantemente sanzionato. Questo certamente non è facile perché immagino avvengano ovviamente nelle ore notturne, insomma non facendosi vedere eccetera. Però rappresenta veramente un problema di inciviltà su cui noi siamo determinati con tutte le azioni che facciamo sul decoro urbano a cercare di stroncarlo. Ringraziamo Franco Dringoli, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Arezzo. Per la verità dobbiamo aggiungere una cosa che abbiamo saputo subito dopo aver registrato questa puntata. Ci ha telefonato dopo l'intervista l'Assessore Franco Dringoli e ci ha comunicato che in via Provenza è stato ripulito tutto. Quindi siamo riusciti a sensibilizzare l'amministrazione comunale su questo argomento e quindi almeno in questa puntata abbiamo centrato l'obiettivo. Sottopasso di via Arno, via Provenza, siamo in questa zona per segnalare appunto quello che ci è stato da voi segnalato in queste mail che stiamo ricevendo. Sportello Reclami, chiocciolateletruria.it Questo è l'indirizzo di posta elettronica, il nostro riferimento principale. Oppure potete entrare su Facebook, slash Sportello Reclami, ci trovate subito e lasciare lì il vostro messaggio. Naturalmente torneremo ancora con altri argomenti. Grazie, a domani e buon proseguimento su Teletruria. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.